20-18 sicuramente sicuramente non vogliono darla su le ragazze in maglia rossa no assolutamente ci provano fino alla fine, Meggiolaro in attacco ha delle altezze che le altre non riescono a prendere quindi passa comodamente sopra il muro ma è la camera chiude la partita con una palla pregevole si appunto mentre stavamo raccontando di questa partita la partita si è conclusa con Massimiliana della Camera che è andata è andata a chiudere con questo bellissimo colpo in lungolinea pregevolissima l'alzata di Speltoni finisce allora 21-18 questo secondo sete finisce anche la partita con il duo Speltoni e della Camera che ricordiamo ha vinto adesso aspettiamo le atlete per qualche intervista a caldo duo Ghiotto Milocco che ha avuto ragione dell'altro duo nella finalina del terzo quarto posto Ferrazzo Baldin diteci un po' ragazze com'è andata questa partita per chiudere il podio per il terzo gradino del podio allora abbiamo iniziato la partita motivata perché eravamo appena state buttate fuori in semifinale dalla coppia che ha vinto quindi siamo riuscite a forzare il servizio l'abbiamo messo un po' in difficoltà a ricezione ci sono riuscite un po' di cose che invece nella semifinale non ci sono riuscite abbiamo giocato o meglio e niente abbiamo vinto entrambi i set mi ricordo a 16 non mi ricordo non mi ricordo però è andata bene senza grossa dizzontà sì siamo un po' arrabbiate per il risultato perché speravamo in qualcosa di più però vabbè è la prima volta che ci stiamo allenando io e lei oggi e quindi siamo positive bene grazie mille complimenti allora per il risultato nonostante non fosse la finale del primo e secondo posto comunque terzo posto molto importante ottenuto grazie mille grazie a te e siamo qui con le seconde classificate invece del torneo il duo Meggolaro chi metto iniziamo da Meggolaro questo risultato che insomma non vi ha premiati due set molto combattuti ma che alla fine hanno vinto visto spuntare le avversarie si siamo abbastanza soddisfatte perché anche è il primo torneo che facciamo insieme quindi dobbiamo un attimo collaudare la coppia però a parte il primo set dove abbiamo sbagliato tanto il secondo è stato più combattuto e siamo abbastanza contenti dobbiamo sistemare alcune cosine a partire dalla battuta però dai abbastanza felici ti hanno cercato molto servizio perché hai fatto qualche errore nella parte iniziale però nella seconda parte di ambe due i set sei stata molto brava a recuperare sì sono in indoor sono in centrale quindi devo ingranare un pochino però poi una volta che mi prendo diciamo che non mi fregano più sentiamo qualche commento anche della compagna di squadra la chi metto io sono contentissima perché il primo torneo che facciamo insieme come ha detto Martina e soprattutto non abbiamo mai provato muro difesa quindi essendo entrambe due giocatrici di muro siamo trovate a fare una cosa nuova improvvisata e siamo arrivate in finale quindi io sono soddisfatta adesso dobbiamo lavorare ecco quindi c'è soddisfazione mi pare di capire ancora complimenti comunque per la finale ottenuta e bocca al lupo per il proseguio per i vostri allenamenti grazie grazie mille ciao grazie siamo qui invece con il duo che ha vinto questo torneo il duo speltoni della camera della camera la prima tappa l'avevi già vinta in coppia con Ferrazzo adesso qui a Corneido hai bissato il successo sì insomma sono molto contenta perché insomma c'era veramente un gran bel livello quest'oggi giocatrici forti con cui insomma ci conosciamo tutte in realtà però insomma è stata una vittoria di grande soddisfazione poi insomma ovviamente sono contenta di aver vinto due tornei e come è andata la partita avete trovato qualche difficoltà nell'affrontare le vostre avversarie beh allora sicuramente sì nel senso che comunque sia la Chimetto che la Mezzolaro sono due ottime giocatrici abbiamo dovuto scegliere la cosa diciamo indicativamente più semplice ma in realtà non era così abbiamo deciso di giocare sulla Mezzolaro insomma ci ha dato del filo a torcere però siamo state brave anche a tenerle sotto pressione quindi a cercare di farli fare dei colpi sempre più difficili e abbiamo rosicchiato sempre appunto la volta e ce l'abbiamo fatta diciamo che vi ha aiutato anche un pochino il tempo perché c'è stato un po' di clemenza da parte del sole in questa ultima partita in quella della finale ah sì sicuro però è arrivato su un venticello a un certo punto che vabbè però bisogna anche saper sfruttare anche queste cose quindi siamo contenti diciamo che il vento vi ha aiutato anche al servizio ad un certo punto voi due che siete due giocatrici che ce l'ete sicuramente nel fondamentale diciamo che essendo due che hanno un gran fisico sicuramente dobbiamo puntare molto sulla battuta e quindi ci proviamo continuiamo ad allenare e vediamo che i risultati arrivano allora buon lavoro per i vostri allenamenti ancora complimenti per la vittoria finale e grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti.